ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale quest'oggi ci troviamo sul mio pc per verificare il vincitore di questa settimana come avevo detto nel contest questa settimana sarebbe andata a bucio di culo a bucio di culo perché comunque non ho avuto il tempo di stare lì a verificare ma non perché non mi seguo perché però purtroppo non ci ho avuto il tempo veramente l'intero pomeriggio a nerdà su youtube non mandava anche perché era un po stanchino quindi ho deciso di fare in questo modo ma questo solo per questa settimana perché ho visto che ci sono alcuni furbetti nei commenti che neanche sono iscritti al canale o comunque neanche hanno condiviso diciamo anche perché per esempio vi faccio un esempio subito ci sono 25 commenti 24 like quindi qualche rincoglionito testi 25 commenti non ha messo like oppure vabbè no a parte che c'era pure un commento doppio comunque sia sono andato anche a controllare le iscrizioni e qualcuno di questi partecipo non è neanche iscritto al canale quindi i signorini stanno vedendo la risposta del contest per questa settimana è andata così però alla fine della settimana io andrò a vedere chi ha condiviso chi è iscritto al canale chi lascia i like insomma tutti sti cazzi non è che serve arrivi lì e prenditi su partecipo ps3 mentre magari l'hai iscritto su altri 25 mila canali e non ti sei mai iscritto quindi è cazzo è tutt'uno comunque sia continuiamo e come state vedendo ragazzi ci sono questi 25 commenti io adesso andrò su un sito internet che si chiama random.org tramite questo sito farò l'estrazione come funziona funziona che io vado ad inserire 25 in pratica 25 qualcosa 25 sarebbe da 1 a 25 e in quel caso il il sito estrarrà uno di questi 25 numeri come può essere uno come può essere 19 come può essere 15 insomma uno desti 25 numeri e chi sarà in pratica che ne so il 25esimo commento come stavo spiegando nel video precedente avrà vinto questo contest il primo commento esce il numero uno avrà vinto questo contest quindi questo è il bucio del culo per quanto riguardava questa settimana quindi adesso andiamo a vedere chi ha chi ha vinto questo contest chi è il il fortunato scurato di questa settimana che ha vinto questo contest così insomma e andiamo a verificare un attimo che carica il sito qui che rompe veramente i coglioni un po' lentino a parte che io ho internet col criceto lo sapete tutti e quindi niente andiamo qui ad inserire il numerino come state vedendo 1 e 25 1 perché partiamo da 1 25 perché siamo a 25 e qui mi è comparso il numero 11 ragazzi il numero 11 adesso andremo a vedere chi è l'undicesimo commento partendo da sopra in questo caso ragazzi perché comunque io partirò sempre da sopra se farò un sorteggio questa maniera quindi comunque sia andremo andremo in questo ordine e andiamo a vedere chi è che ha vinto questo questo account moddato cioè io il pc siamo a scatti comunque va bene facciamo finta che che vada bene e siamo arrivati al undicesimo commento ragazzi siamo arrivati a tecnofuture tecnofuture che ha commentato 22 ore fa quindi questo tecnofuture innanzitutto è pregato di iscriversi al canale perché non mi sembra che sia iscritto a meno che non abbia le iscrizioni chiuse e poi mi contatti su facebook provvederemo a fare questo account niente ragazzi per questo video è tutto continuate per la prossima settimana per questa settimana e a lunedì prossimo ci sarà un'altra estrazione ciao a tutti